Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Ben trovati in questo lunedì 24 marzo. Le province abruzzesi hanno inviato al governo un prospetto che contiene i progetti di edilizia scolastica immediatamente cantierabili, cioè che immediatamente possono essere trasformati in cantieri e ammontano a circa 110 milioni di euro. La maggior parte si trova nell'Aquilano a causa dei gravi danni provocati dal terremoto del 2009. Lo rende noto l'Unione Province Abruzzesi che ha chiesto di inserire questi progetti nel piano straordinario per l'edilizia scolastica annunciato dal presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il consigliere comunale pescarese di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, Armando Foschi, ha scritto un'interpellanza al sindaco di Pescara affinché a sua volta interpelli il ministro dei Trasporti sull'aeroporto d'Abruzzo. Foschi chiede quali economie si ritiene di perseguire chiudendo il posto di polizia interno allo scalo pescarese, come si intende mantenere gli standard di sicurezza attuali ed il controllo dei documenti dei passeggeri, pianificare la gestione della sicurezza dell'aeroporto e del porto, visti gli altri impegni della questura, e compensare la ricaduta commerciale negativa conseguenziale alla decualificazione dell'aeroporto. Restituiti alla curia arcivescovile dell'Aquila i frammenti della reliquia di Papa Giovanni Paolo II, rubata lo scorso gennaio dal santuario di San Pietro della Ienca sul Gran Sasso Aquilano, contenente il sangue del Papa. Per custodire i frammenti sarà usato un reliquiario regalo della comunità ecclesiale civile di Bisceglie. Si conclude questa storia nel migliore dei modi, ha detto Monsignore Giovanni D'Ercole, vescovo ausiliario di L'Aquila. È stato fatto, ha aggiunto, un grande lavoro. Casal Bordino sarà una delle prime cittadine abruzzesi a dotarsi di postazioni fisse dove collocare defibrillatori da usare in caso di crisi al cuore. Balneatori responsabili delle associazioni sportive si preparano a frequentare un corso per essere abilitati all'utilizzo dei defibrillatori. Quest'attività a cura della ASL di Chieti si concluderà con un attestato della Regione Abruzzo. Tra le postazioni che saranno in città, nel centro cittadino Miracoli di Casal Bordino e sul lungomare. Un box alimentare di straight food, di pesce, due birrerie artigianali, pizzerie, casalinghi, pelletteria e un punto vendita specializzato in prodotti senza glutine. Sono queste le nuove attività che troveranno posto al secondo piano del mercato di Piazza Muzzi a Pescara una volta completata la ristrutturazione tra poche settimane. Pubblicato l'avviso per otto nuovi box al piano superiore, le domande potranno essere presentate fino alle 12 di sabato 5 aprile. Resta vuoto il box 17 al pian terreno nella galleria commerciale che ospiterà un bar. Sarà affidato con un successivo bando vista la specializzazione dei requisiti richiesti. Ieri mattina l'ex sindaco della città di Montesilvano, sfiduciato dai consiglieri in attesa del risponso del TAR, ha simbolicamente occupato l'ex colonia Stella Maris per protestare contro le decisioni della regione e della provincia e chiedere che la Stella Maris venga definitivamente assegnata al Comune. La regione ha stanziato un milione e mezzo di euro per il definitivo recupero dell'ex colonia, capolavoro dell'architettura degli anni 30. Di Mattia si schiera contro quest'ipotesi di trasferire la polizia provinciale proprio in quella struttura e chiede che la Stella Maris diventi una fabbrica delle idee come l'Aurum a Pescara. Il Consiglio di Amministrazione e di Agire SCARL, il Collegio Sindacale, il Comitato Tecnico Scientifico, i soci, i dipendenti e i collaboratori tutti esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Salvatore Di Paolo, anima e motore dicono del Polo Agroalimentare d'Abruzzo. Siamo profondamente colpiti da questa perdita e il messaggio del Vice Presidente del Polo Agire, William Di Carlo, con Salvatore Di Paolo, se ne va, dice, un amministratore capace di organizzare e gestire programmi complessi di lavoro con la facilità propria solo dei grandi manager e al contempo un amico delle imprese abruzzesi. Comincerà domani il corso di formazione 2014 Io Volontario in Pediatria presso la Sala Riunioni Age in Via di Amicis 37 a Pescara, un corso di 12 ore il cui obiettivo è quello di dare a tutti i volontari strumenti utili di conoscenza e consapevolezza del proprio ruolo del servizio che intendono svolgere. A chiunque sarà interessato il corso offre un'occasione di formazione, informazione ed approfondimento. È aperto a tutti e dura 12 ore, puntando a facilitare chi intende svolgere attività di volontariato nell'ambito dell'azienda sanitaria locale. Primo appuntamento quello appunto di domani alle ore 16 e fino alle ore 18 con il dottor Giuliano Lombardi, direttore dell'Unità Operativa Pediatrica e la dottoressa Manuela Francini, presidente dell'Associazione Genitori. E in occasione della 22esima giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri, stasera alle 21 presso la parrocchia di San Giovanni e San Benedetto in strada Pandolfi a Pescara si terrà la veglia di preghiera diocesana dal titolo Martiria. Guiderà la preghiera padre Domenico Guarino con Boniano. Oggi la direzione, la redazione, la regia ed i collaboratori tutti augurano buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Carmine Di Marco e buon anniversario di ordinazione diaconale a Sergio Diella, Erminio Fragassi, Fulvio Cicchinelli e Giancarlo Mincone. In chiusura vi ricordiamo che la nostra emittente, anzi siamo scusate al meteo, oggi su Pescara e provincia si prevedono cielo coperto al mattino e nelle ore centrali, pioggia nel pomeriggio e piogge schiarite in serata con temperature da 8 a 14 gradi e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso. In chiusura dicevamo, vi ricordiamo che la nostra emittente è Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne, trasmette sugli 87,6 MHz ma anche su www.radiosperanzapescara.it. Siamo su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. La radio ha bisogno del sostegno di tutti, potete dunque inviare le vostre offerte sul conto corrente postale 16126658, ripetiamo, 16126658, intestato a Curia Arcivescovile di Pescara Penne, Piazza Spirito Santo 5, 65, 121 Pescara, specificando nella causale Radio Speranza. Tra poco saremo ancora in onda con le notizie di scienza, per il momento da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu. Grazie e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.